Ogni popona nana mai mia accolgione le cose come tornava oggi euer non c'è un po' più soluzione. No vengono qui e se c'erano con la corsa. E' il nostro mare viene qua con la corsa. E' comunque qui ci spende la corsa. E' un po' così. Non c'erano? E' un po' così? Dov'è un rilevore e ci spavano una l'arpeghe è un pegghese il peggho. Non è, già il mio padre, il mio padre, non è ufficienza non si, o no, dei dettagli, aspettare, che hanno accettato questi anni. non si, come investimenti, non si, come me sape un'efficazità, ma non si, come un'efficazità, non si, come un'efficazità. Vi faccio questo, così, due sights e per questo, non si, non si, come un'efficazità. Non si, come questo, come sempre il suo rilevo, non si, come il們, come un'efficazità, non se, come un'efficazità di rispettare, le fanno inoporre con voi nel loro i costraccionati edificando loro potremi con voi potremi potremi potreli potremi 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 uomo potremi 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 con come una cosa è una cosa d'argomento gli amici non è il maία di colorato è il gruppo abbiamo messo i loro mettere io siamo qui noia ohia potta ben dorsi mette a mette investment night to note to note what not better naga one came in a buono one came in the world on a nani bono con name investment become kind of an investment guy develop one a new one on a new walker car you time weekend forum we create the factory utah for joblessness a god is it in a maca frona government attra a can you know why a capico ma carangi weti ovina government biconi biconi noia wana ente yamu iya uko uko nseka uko